Come si tratta? Come si tratta? Come si tratta? L'ascensione, in generale, non si tratta tanto. Quindi, sicuramente, riduciamo la fronte. E anche la bicicletta ha bisogno di molti cambiamenti. La bicicletta deve essere agile. Quindi, facciamo una bicicletta più agile e meno stabile per Asen, in generale. Anche perché Asen ha il primo coro, per esempio, bisogna di stabilità. In altre parti la stabilità non è un problema. L'anno scorso, e soprattutto l'anno scorso, abbiamo lavorato molto in una parte più rapida in una direzione di cambiamento. sembra che la nuova bicicletta è più agile, quindi credo che possiamo migliorare molto il tempo in quella zona rispetto a l'anno scorso. Grazie. 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 Grazie.